Continuare la campagna di immunizzazioni e allargare la platea dei vaccinati e poi mantenere mascherina, distanziamento e igiene delle mani. Questa è la strada da seguire per contenere l'aumento dei contagi. L'indicazione è quella del professore Andrea Vianello. Il suo punto di osservazione è la terapia semi-intensiva dell'ospedale di Padova. I contagi crescono giorno dopo giorno e alla stessa maniera, seppure lentamente, crescono anche il numero dei ricoverati. Quindi evidentemente c'è qualcosa che non funziona. Il tasso di vaccinati che abbiano completato il ciclo sulla popolazione generale è intorno al 75%. Quindi questo indica che comunque un veneto su quattro, compresi naturalmente anche i bambini, gira non essendo vaccinato. Il vaccino è fondamentale, ma non basta, spiega il professor Vianello. Il vaccino rappresenta un vantaggio fondamentale. Riduce la circolazione del virus e riduce grandemente il rischio di malattia grave nel vaccinato. La vaccinazione della popolazione non può far mettere da parte e far dimenticare tutte le altre misure. Restano essenziali per contenere la diffusione della malattia.